benvenuti al secondo episodio del progetto dell'estate oggi siamo con mario's illegal operation il secondo episodio dell'anime arc andiamo a vedere parte con un depresso che c'è fallo solo anche i bowser e lo dice sempre o che bella come si chiama questo sono il gimnopiede si si chiama gimnopiede numero uno e brucia tutta la merce le pelpe cos'è sta roba perché l'abbiamo fatto una settimana in realtà è già successo veramente perché stiamo facendo vabbò chi se ne frega della tua pubblicità allo shop eh si glitch productions smg4 e ricordiamoci che l'ulto episodio peach si era incazzata per il suo castello andiamo a vedere oh breaking news ciao kermit gli anime hanno distrutto il regno ok bel modo per poter iniziare per poter iniziare questa puntata e bel modo per l'estate il death note no ciao steve è un elefante oh ciao ecco i nostri quattro polonisti gli anime sono bannati per sempre eh sì per sempre li ha bannati anime secret service che significa sedere boom oggetti da anime oh no li può lo vuole bruciare addio anime beh dovresti beh dovresti eh anime gli anime sono stupidi comunque povero Fishy Boopkins i suoi anime sono bannati per sempre oh I saved the world bitch mi chiedo se questo avrà maggiori conseguenze una serie di grandi voti eh non sarà niente invece Fishy Boopkins si ammazza in diretta televisiva non preoccuparti Fishy Boopkins è vero Mario no ok cosa cosa dovrei fare potrei aiutarvi Iggy o come si chiama ah sì Lemmy Iggy è un altro ovviamente sta roba ovviamente sta roba desu desu Giojo ok Boopkins seguitemi ok delle cose sconosciute un seven up è un seven up non lo so no era un è la è la seven eleven forse dobbiamo rivedere la scena cos'era un seven eleven scusa dobbiamo trovare più costumieri smuggling cosa vuol dire bene andiamo a vedere oh un cuscino o come si chiamava ah sta fumando Mario non mi piace l'ha visto questo eh it's kind of hot che è oh no la S ecco la S ed SMG4 mette mani in alto il S è qui la S il cartello dei anime oh no sputato sullo schermo aiuto bro it's just a drawing alla sss bannare gai oh fuggi pop fuggi why are you running Mario andiamocene scusa Mario non nuota in quel modo no questo è mega illegale a limited anime con crunch roll come si chiamava si chiamava così ah ah si money 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 no mi mi rifiuto non sono io io non so tradurre quindi fatevi una cosa da sole è che siete in un furgone che probabilmente per prendere un po' di pb o come si chiamava oh ecco gli anime ok no S in sight ASS checkpoint se ci cacciate noi anime ti faremo yeet o come si dice non lo so o i chain chomp ci hanno anime is for chumps state a scuola non fate non fate anime mettete le mani in alto oh ciao Hideo Kojima ti abbiamo già visto lo scorso episodio di questo format sword art online oh abbiamo un po' di spazzatura qua e ma addio Hideo Kojima povero idio io mi dimentico di lui vi ho già saputo e poi esplode datemi un po' di ok apriamo la porta ah ecco l'illegal operation di Mario bork bork sto annusando bork che cos'è questo no Mario simp no è l'highlight di questa serie per adesso è uno degli highlight di questa serie tir le sodia basta mi stanno arrivando 5.000 notifiche nel momento del caricamento di questo studio ok prepara di morire anime aspetta non sono anime ma chi sei wonder woman che ti giri e diventi ecco d'ora è nuda eh sì grande master chief bene ora rientriamo nel track ok adesso andiamo al regno di funghi e sportiamo gli anime ok oh no delle guardie Pietro Smoothie is calling for you chi se lo ricorda ok beh uh un cuscino weepiest shit I've ever seen quella voce prima sono swagmaster e chris lo so vi ho spoilerato mi dispiace qual è il tuo nome il mio nome è jeff e tu sei matt ok smettiamola oh no oh no polizia del ASS una bella roba lol surprise surprise cosa facciamo solo di Windows 6 piche restarte quando crash dopo le amurta eh sì brione vi ricordai questi ragazzi oh no ho un lanciamissili un bazooka o qualche altro oh no sto bruciando gli anime questi sono i miei amici fammi fare la situazione a me oh no stiamo per morire la la master sword ha preso non è come funziona double care più facile della mia vita vorresti essere licenziato di nuovo swag è sad face ok entra di nuovo un cuscino ah ok non so tradurre eh sì fui sei già in grande guardia non preoccupatevi non possono uccidersi se non possono trovarci che? ho sentito ora ho una limousine una limousine un po' corta chiamiamola la 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 musine è il boss del cartello degli anime Francis inoltre Francis che ma non l'ho già visto in Super Paper Mario forse l'ho già visto entrate mamma mia ok nella musine che cosa succede shut up ai miei guts kawa yeah è sì è a causa di smg4 che ha provato ad arrestarci dovresti solamente devi solamente ucciderlo shut your mouth non rubare le catchphrase a te rocco ok money sotto di giro totalmente rocco ti posso aiutare io lavoro per l'ass non posso fare che cosa fai mikusama ok ok eh sì di delle big tis anime cose e che cos'è sta roba dobbiamo usare dobbiamo usare le tue credenziali per escoltare qualcuno fuori dal regno fate fuori mamma mia dobbiamo usare di escoltare Gesù Gesù took you you nerd long qualcuno ha una pistola oh non dire psycho bitch su mi sta psycho chan it's the best a cool find dobbiamo proteggere psycho chan cosa sono un anime e sono stata bannata qua ma voglio che tu stia qua ma lass mi stopperà in realtà stanno bannato psycho e mo se ne dove andare Giappone volete andare con lei in Giappone intanto la musina è diventata una limousine oh Mario potresti potresti pensare di andare con loro Mario non andrà in Giappone oh no c'ho una missione davvero pericolosa per te e parla e razza è un razziatore sto qua e doversi prendere raga io non so cosa sarà la missione che Mario va a fare però ci troviamo domani con lego marvel avengers verso